Allora, sono le 14.30, track 2 WorldCamp Torino 2013, grazie di essere qui. E abbiamo, appunto, iniziamo con il talk di Fabrizio, Fabrizio Leo, chi è Fabrizio Leo? Fabrizio Leo è una persona che usa WordPress da una vita, la mia vista è di tutti i colori, ha visto versioni di WordPress, ferme alla release 4.5, usa appunto WordPress come se fosse un amico di infanzia, è cresciuto insieme a WordPress, quindi il talk di oggi sarà molto interessante, soprattutto perché tratta un mito di WordPress, che è quello che WordPress non scala, che questo è un CMS che non scala. Ne siamo veramente sicuri? Vediamo, adesso aspettiamo cosa si dice Fabrizio Leo. Grazie, grazie a te. Buon pomeriggio. E lo so che è duro cominciare dopo la passo a pranzo, quindi, prego. Ok, ci siamo. Ok, allora, andiamo a disfadare un po' questo falso mito, questa leggenda, WordPress non scala, capiamo. Però una domanda, ce l'ho io per voi, insomma, una domanda anti-abbiocco, diciamo. Vi siete mai chiesti come fanno diversi siti che gestiscono milioni di utenti realizzati su WordPress, come fanno a reggere tutto quel traffico? Quindi cerchiamo di capire, più o meno, secondo quella che è la mia visione, come fanno. Come già vi è stato anticipato, sono Fabrizio Leo, sono il CEO e il founder di Flame Networks. Oggi, va avanti? Sì. Ok. Perfetto. Un po' di contesto. Abbiamo il blog dei miciocomeri, che sta diventando virale. Infatti, chi è tra di voi che non è curioso di sapere qual è la storia di questi miciocomeri, vero? Il blogger che ha creato questo sito realizzato con WordPress però inizia ad essere un po' preoccupato, perché in effetti, poiché questo blog sta diventando virale, lui teme che il sito possa non reggere tutti questi utenti. E quindi si chiede, come faccio a tenere in piedi il mio sito su WordPress? Perché non voglio cambiare piattaforma, so usare WordPress, lo padroneggio, non voglio passare a una soluzione custom. Quindi, come faccio se non posso scadere le risorse? Come facciamo ad aiutarlo? Quindi, in suo soccorso, il miciocomero ha trovato chi può dare una risposta a questo suo dubbio miaoletico. Vediamo come. Partiamo da quelli che sono i problemi più comuni che abbiamo poi riscontrato nel corso di tutti questi anni su WordPress. Il peso. Diciamo che questo gattone la dice un po' tutta. Quindi, peso, temi, page builder, i nostri amati page builder che per quanto possano in qualche modo agevolare la gestione dei contenuti, in realtà poi magari introducono un livello di complessità tale che poi vada a pesantire poi tutta la struttura. E anche le immagini hanno, seppur in maniera minore, un impatto. Ora, sui plugin, troce delizia. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato, mediamente, istanze WordPress con un numero di plugin molto, molto imponente, ma plugin non utilizzati. Io vi do adesso, vi spoilerò una cosa. Se i plugin non utilizzati, se non li utilizzate, toglieteli, non li disattivate. Se non li usate, cancellateli. Perché questo? Perché in realtà un plugin disattivato è comunque un qualcosa che esiste, seppur in maniera silente, sulla struttura del nostro sito web, che di conseguenza comunque lo appesantisce. Io lo so che vi affezionate ai plugin, lo so. Dite, vabbè lo installo, poi non mi serve, se magari poi mi servirà tra tot mesi, vabbè non lo tolgo, che peccato, me lo tengo lì, poi un domani lo riaccendo. No, se non vi serve più, toglietelo, eliminatelo. Abbiamo visto tante istanze WordPress con decine di plugin non usati, disattivati, che non ha alcun senso. Anche perché si possono tranquillamente salvare e esportare le configurazioni, un domani doveste averne bisogno di nuovo, è molto semplice reinstallare UX nuovo ed importare la configurazione che poi è stata precedentemente salvata. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato tutta una serie di mancanze di ottimizzazioni sulla parte JavaScript, assenza di cache e sulla parte di infrastruttura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che infrastruttura magari non adeguatamente dimensionata o non adeguatamente ottimizzata, l'assenza di diversi strati di cache e l'assenza di ottimizzazioni dei JS. Quindi, no lazy load, no object caching, no load balancing, come diceva una vecchia pubblicità, possono essere dolori. E in effetti, quando parliamo di minificazione e compressione dei fogli di stile, quindi CSS e JavaScript, che cos'è minifiché? Che cos'è la minificazione? La minificazione è una tecnica che consente di comprimere quelle che sono le nostre risorse statiche. Un sito WordPress è composto da diverse risorse statiche, ovvero fogli di stile, JavaScript, font, immagini. Quindi quando io vado a minificare, cioè a compattare JavaScript e CSS, sto riducendo in termini volumetrici, in termini di volume di dati che poi il browser va a scaricare, sto riducendo questi dati. Quindi il client, l'utente che va a consultare le pagine web deve scaricare meno informazioni. In ultimo, non per importanza, tutta la parte database. Ovvero, sappiamo che WordPress è un CMS sviluppato in PHP che utilizza come suo back-end un database relazionale. Quindi all'interno di questo database, che è composto da tabelle, all'interno di queste tabelle ci sono tutta una serie di informazioni che vengono recuperate on the fly dal nostro CMS, quindi post, pagine, tutto quello che serve, viene reperito dalla base dati. Quando però ci troviamo in situazioni di un over-usage della database, c'è qualcosa che probabilmente non quadra. Quindi, nei momenti in cui io devo aspettare un toto di tempo affinché il DB mi restituisca le informazioni, è tutto tempo che l'utente sta aspettando per ricevere poi le pagine che ha richiesto. E questo chiaramente non va bene. E quindi, ora che abbiamo visto quelle che sono le problematiche, le criticità più diffuse, come facciamo ad ottimizzarle? Occorre un'analisi preliminare. Quindi, prima di compiere qualsiasi ottimizzazione, dobbiamo sapere cosa ottimizzare. Geniale, eh? Bene. Può essere una parte noiosa questa, è una parte complessa, che richiede delle competenze, ma credetemi, è tutto lavoro ben speso. Quindi, per sapere cosa ottimizzare io devo fare un'analisi. Bene, che cosa vado ad analizzare? Fortunatamente ho tutta una serie di strumenti che mi possono dare una mano, cioè monitorare l'utilizzo di risorse di sistema. Io voglio sapere, costantemente, e magari anche con una storicità, l'andamento, l'utilizzo di risorse di sistema, lo stato di salute del sistema che ospita la mia istanza WordPress. Ci sono diversi sistemi e tecnologie che ci aiutano. Ad esempio, un prodotto molto interessante, open source, è Zabbix. Zabbix è uno strumento potentissimo che è sostanzialmente un agent che si installa all'interno del server, che poi invia tutta una serie di informazioni a un cervellone, diciamo, a un server Zabbix, che colleziona questi dati. Cosa importante è che, oltre a collezionare queste informazioni, crea dei grafici e li storicizza. Quindi io posso avere nel tempo contezza dell'andamento dell'utilizzo di risorse e capire, magari, perché il mio sito in un determinato momento è rallentato. Vado a vedere il riscontro, poi, sul sistema di monitoraggio, che, magari con Zabbix, il grafico del processore mi dava uno spike al 100%. Poi vado a fare l'analisi, ancora più di dettaglio. E che cosa vado a controllare? Vado a fare un'analisi sui log. Log è un registro, è un file, che contiene tutta una serie di informazioni, utili per analisi e troubleshooting. All'interno di questo registro, io posso andare a riscontrare tutti quelli che sono gli accessi al mio sito WordPress. Perché poi, a che cosa serve fare questa analisi su log? In una condizione di operatività normale, io avrò sempre gli accessi tracciati tra le varie informazioni, perché è un log, viene scritta una riga che ha tutta una serie di informazioni. In questa riga c'è il response code del web server, che normalmente, in caso, ripeto, di operatività normale, il server web risponde un numerico che è 200, cioè ok. Vuol dire che il web server ha risposto, ha fornito il contenuto che è stato richiesto dall'utente. L'analisi sui log del server web mi serve per capire se ci sono degli errori 500. La classe degli errori 500 è micidiale. Perché sono errori che poi hanno come diretta conseguenza l'impossibilità per l'utente di visualizzare quella pagina web. I famosi errori 500, le pagine bianche, white screen of death. 500, 502, 504. Sono dei timeout lato server che possono essere un sintomo di un problema ben più grave, magari saturazione di risorse e quindi ritorno al monitoraggio del sistema. Oppure può essere magari un problema sul PHP, sulla catena elaborativa. Quindi il web server in realtà ha risposto 502 o 504 perché il PHP ci ha messo troppo tempo a rispondere. E poi in ultimo c'è tutto il profiling sull'applicazione. Cioè, così come io posso fare sul sistema, il monitoraggio e capire come sta andando, io posso fare la stessa cosa sull'applicazione con degli strumenti di profiling. Cioè, scoperchio il vaso di Pandora, ci vado a vedere dentro che cosa sta succedendo sulla mia istanza WordPress. Ci sono degli strumenti nativi, ci sono tutta una serie di plugin WordPress che mi aiutano a fare un'analisi di merito per capire poi il livello di ottimizzazione della mia istanza WordPress. O degli strumenti esterni, come ad esempio New Relic, è uno strumento potentissimo che ci dà tantissime informazioni sullo stato di ottimizzazione e di salute della mia istanza WordPress. Quindi, in base ai risultati che ho raccolto, posso poi decidere dove andare ad ottimizzare. Qui si apre tutto un mondo di ottimizzazioni lato infrastruttura barra server, quindi, diciamo, sono attività che non competono tanto al developer ma all'amministratore di sistema. Quindi il vostro caro hosting provider diciamo, ha la competenza, dovrebbe avere la competenza e la responsabilità di tutta questa roba qui. Ovvero, ottimizzare la parte web server, quindi vedere se Nginx e Apache sono ben ottimizzati, sono configurati bene. La compressione e il caching delle risorse statiche. Questa è una parte che in realtà è trasversale perché la compressione delle risorse statiche è un qualcosa che viene effettuato a livello applicazione, quindi su WordPress. Il caching delle risorse statiche è un qualcosa che può essere fatto sia su WordPress ma anche a livello web server. PHP. Quello è uno dei principali problemi. Lì si possono creare tanti colli di bottiglia che rallentano poi il corretto flusso all'interno dell'elaborazione canonica per fornire le pagine ai nostri utenti. Io lo so che usate ancora PHP 7. Lo so. O5.6. Io non vi faccio niente, ok? Io non vi faccio niente. Però diciamocelo, insomma. PHP 7 è end of life, end of support, end of tutto, ok? L'unica cosa certa è che è bucabile. Quindi, attenzione alla sicurezza. Ok? Quindi il mio consiglio è cambiare, switchare compatibilmente con la nostra istanza WordPress a PHP 8, che è un progetto vivo, vegeto, supportato, che è migliore di PHP 7. Si nota subito una differenza dal punto di vista prestazionale, perché è cambiata, è cambiata a livello architetturale, sono cambiate tante cose, e soprattutto, poiché è un progetto vivo, vengono rilasciate le migliorie e vengono rilasciate le patch di sicurezza. E poi, per quanto riguarda sempre la parte front-end, c'è tutta la questione relativa alla parte di accelerazione HTTP. Avete mai sentito parlare di Varnish Cache? Sapete più o meno che cos'è? Qualcuno che mi alza la mano e mi sa dire che cos'è? Diciamo che, in generale, possiamo definire un reverse proxy che funge da motore di caching. Giusto? Perfetto. Varnish Cache è una tecnologia, fortunatamente open source, potentissima. Immaginate che con Varnish Cache ci girano tanti servizi streaming. a pagamento. Quindi, l'installazione, il fine tuning di Varnish Cache è strategico ed è fondamentale per l'ottimizzazione di tutta quella che è la parte del front-end per creare un cuscinetto che aiuta il sistema a non soffrire di quelli che sono i famosi spike di utilizzo di risorse di processore di memoria. Quindi, Varnish Cache prende la nostra pagina, è un sistema che scrive nella memoria del sistema, il cui accesso, poi, è molto più veloce rispetto all'accesso sul disco. Quindi, però, non prende la pagina e la butta sul file system, no. Crea un indice ed è a chiavi Varnish. Quindi, il sistema di caching non va a prendersi la pagina, va a prendersi la referenza che poi punta alla pagina che l'utente ha chiesto, senza passare dall'elaborazione canonica. Quindi, web server, PHP, internazionale database, e tutto poi il flusso in uscita. Poi c'è tutta la parte di ottimizzazione del back-end. Quindi, fine tuning della parte database. Come vi dicevo prima, WordPress usa PHP e usa un database relazionale. Capire lo stato di salute del mio database server. L'analisi delle slow queries, che è altrettanto fondamentale. Chi sa che cosa sono le slow queries? Nessuno? Ok, cosa sono? Ok, allora, così come per il web server esiste un registro, un file di log, anche sul database server è possibile abilitare il log delle slow queries. È un file che viene scritto e che contiene esattamente le interrogazioni alla base dati della nostra istanza WordPress, che impiega più di un tot di tempo per essere eseguita. Quindi, immaginate che se ho anche una sola query sul database che impiega 5 secondi, vuol dire che io, utente, sto aspettando almeno 5 secondi affinché la pagina web vi venga restituita. e poi utilizzare anche un sistema come la SIC search o Apache Solver. E se poi dopo tutto questo te ne penti? No, ovviamente scherzo. E se poi non basta? Allora vuol dire che dobbiamo scalare. Quindi ritorniamo al discorso WordPress non scala, no, ma come, un casino, no. Capiamo. Sono due tipi di scalabilità, verticale e orizzontale. Scalabilità verticale vuol dire che aggiungo risorse al mio server. Ed è abbastanza semplice. Scalabilità orizzontale invece vado a ripartire il workload, quindi il carico della mia applicazione su più sistemi che lavorano in simultanea. e quindi ritorniamo alla fase di monitoraggio. Che cosa succede? Alla fine dell'analisi che abbiamo fatto dobbiamo incrementare il numero dei front-end. Il web server non è uno solo ma n, ne sono n. Anche la stessa cosa vale anche sulla parte database. Quindi non è un solo server database ma sono n server database. e questo è uno una rappresentazione di quello che può essere la parte web e come scalare e come distribuire il workload su più sistemi. C'è un bilanciatore davanti pubblico esposto su internet che può essere banalmente un Nginx. Dietro ci sono in questo caso quattro web server possono essere ne 10, 20. Il bilanciatore fa da passacarte smista le varie chiamate ai web server in maniera omogenea anche per quanto riguarda l'approccio su database server. Ci troviamo dinanzi a i vari web server che leggono sulle repliche MySQL e scrivono sul master. Quindi io posso andare a ripartire le interrogazioni se è una lettura o se è una scrittura come con HyperDB questa è una cosa che io posso fare a livello applicativo quindi capite che quindi spero di avervi dato diciamo qualche spunto di riflessione su come su come effettivamente può scalare WordPress. Noi ricordiamoci sempre che WordPress è un'applicazione che è PHP based e ha bisogno di un database relazionale. Di tutta questa roba qui WordPress non sa niente completamente agnostico ed è completamente trasparente per l'applicazione. Siamo noi come amministratori di sistema dobbiamo essere in grado di implementare un'architettura di questo tipo. Quindi la domanda che vi ho fatto all'inizio come fanno testate giornalistiche importanti ma anche siti web importanti che gestiscono migliaia di accessi simultanei e ma sono realizzati con WordPress e ma WordPress non scala. Ma in realtà non è vero non è assolutamente vera questa cosa. Stabilità di chi padroneggia i sistemi implementa l'architettura di questo tipo affinché per WordPress è come se stesse su un server con un solo web server e un singolo database server per il resto è tutto trasparente. Quindi chi pensava che WordPress non scalasse probabilmente inizia a ricredersi. Io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie il talk è stato interessantissimo abbiamo un po' di spazio per le domande quindi visto che il talk interessa vai Solo veramente un istante ed è solo un complimento per l'interessante talk e vorrei aggiungere anche una piccola cosa ho visto varie realtà che magari anche molto grosse che purtroppo non scelgono WordPress proprio per questo motivo perché tanti credono che WordPress sia solo per il bloggerilino e cosa quindi No no è solo un complimento per dire bravo bel talk è molto interessante un punto di partenza interessante per anche un punto di pressione Grazie Grazie Matteo Allora chi vuole fare la domanda se vuole possiamo anche dargli una mascherina quindi così anche più tranquillo con il microfono se volete sono qua a disposizione Altre eventuali domande? Sul PH Sì Ecco ovviamente tutto questo non è incompatibile anzi avrebbe solo da ricavarne se in in bundle passami il termine con un sistema CDN No No? No ho menzionato nel mio speech CDN Appunto era quello che mi incuriosiva No Allora la CDN può aiutare ok? Ma non aiuta nel ripartire il carico se io ho un'istanza WordPress che deve gestire 10.000 utenti simultanei non mi serve la CDN a me serve un bilanciatore con un'architettura distribuita ok? perché io devo poter far fronte a quell'amore di traffico se io poi con la CDN ho spostato i contenuti statici CSS JavaScript immagini font perché di questo stiamo parlando ho spostato un pezzettino della mia applicazione altrove che magari ho distribuito su n nodi ok? Perfetto ma elaborazione PHP le interrogazioni al database comunque in ogni caso vanno fatte ok? e quindi se io ho 10.000 utenti che devo servire non posso pensare di farlo con una CDN a meno che non rendo il sito statico e lì non stiamo parlando di altro però stiamo parlando di HTML ok? e lì non c'è bisogno di mettere in piedi tutta quell'architettura distribuita qui stiamo parlando di implementare un sistema che possa scalare facilmente orizzontalmente a fronte di un maggior traffico e soprattutto che garantisca all'utente una performance ottimale stiamo parlando di pochi millisecondi di tempo di risposta un TTFB massimo di 40-50 millisecondi ok? e non è un qualcosa che si ottiene con la CDN cioè se hai un'esigenza di traffico di quel tipo non è pensabile non è quello l'approccio l'approccio è distribuire il carico su più sistemi perché la scalabilità verticale ha un limite dopodiché devi ragionare ripartendo il carico in maniera appunto orizzontale poi per inciso varnish cache può essere utilizzato anche come sistema di CDN però non è questo diciamo il suo ambito di applicazione di cui stiamo parlando adesso perfetto altre domande? tutto chiaro? io ne avrei una posso? ma certo come come si può fare a convincere le persone appunto quella parte dell'upgrade del PHP e della consapevolezza dell'importanza quindi dell'infrastruttura che ci sta dietro a Wordpress è una consapevolezza appunto forse poco presente come si può fare per comunicare al meglio con i clienti con con i trucutori? ok allora se stiamo parlando di utilizzare software aggiornato quindi entriamo nell'ambito diciamo della sicurezza io ti posso rispondere in due modi la risposta che mi sento di darti soft è fare prevenzione quindi anche come ci dicevamo prima non aspetto i ladri e poi metto la porta blindata ok quindi prevenire quindi vuol dire avere un po' di sensibilità in più rispetto a queste che sono a quelle che sono le tematiche sulla sicurezza cioè noi stiamo parlando di software che è sostanzialmente open source è una risorsa inestimabile ok e fortunatamente lo è quindi non c'è il concetto di security through obscurity tu non conosci il codice quindi non lo sai che cosa ci sta dentro eppure escono le problematiche di sicurezza qui stiamo parlando di un software aperto che fortunatamente è manutenuto ed è controllato da tante persone e quindi è normale che escano le problematiche di sicurezza quindi io dico ci sono tantissime risorse su internet gratuite che pubblicano costantemente gli advisory fanno public disclosure di problemi di sicurezza non aspettate che vi buchino il sito per fare l'aggiornamento perché è tardi è troppo tardi cioè poi può succedere perché magari ci può essere una vulnerabilità sconosciuta uno zero day perché spesso succede che una vulnerabilità prima di farne public disclosure passano mesi quindi nel frattempo ne hanno bucati di siti però quando esce la vulnerabilità bisogna darsi una policy dire entro 24 ore io devo aggiornare punto poi si hai voglia di andare dal provider mi hanno bucato il sito le lacrimucce ripristinati il backup e aggiorna ok ma non c'è arrivare in quella condizione ok soprattutto se parliamo di siti importanti su cui si poggia il business di aziende se parliamo di commerce peggio ancora quindi attenzione quindi la risposta è utilizzare ma anche la condizione di sistema perché non è solo il php è tutto il web server il kernel linux cioè è tutto un insieme però appunto la domanda nasce proprio dal fatto che da me molti freelancers molti persone si trovano in difficoltà a spiegare ai loro clienti questa necessità quindi a volte il cliente stesso sceglie un piano di hosting base obsoleto tutto quanto poi le cose vanno male e ce la si prende o col freelance o con lo sviluppatore quindi c'è una difficoltà probabilmente da parte proprio comunicativa per spiegare queste cose al cliente che magari ha un e-commerce di birra non sa niente di Wordpress di Nginx eccetera e non capisce sembra quasi che gli si fa spendere dei soldi in più dice ah ma tu mi vuoi spendere di più però in realtà io ho visto che c'è quel piano da 10 euro e prendo quello e vabbè sì ok allora bisogna ragionare diciamo per come dire metafore ok tu paghi avrai avremo un'automobile qualcuno di noi avrà un'automobile di proprietà si paga l'RCAuto giusto ma questo non vuol dire che cioè posto che obbligatoria per legge ok ma al di là di questo io pago l'RCAuto per stare tranquillo che in caso di sinistro c'è l'assicurazione che mi copre quindi avere un sistema aggiornato è in qualche modo una garanzia che quantomeno mi riduce il rischio di espormi a tutta una serie di problematiche di sicurezza quindi è un po' questo il ragionamento da fare e diciamo è un cambio di paradigma culturale indubbiamente io vado avanti se avete delle domande ti do conferma totalmente cioè noi non faccio pubblicità perché non è carino però mi trovate di là quindi il circa il 30% degli hosting che abbiamo sono in PHP 5.6 però questa è una mancanza del fornitore e non possiamo intervenire noi cioè noi forniamo tanto l'hosting noi possiamo anche dare comunicazione all'agenzia e l'agenzia che deve cliccare sul pulsantino e portarlo a 8.1 e lì è disponibile però ti sei dato la risposta posso dire il 70% di siti non sono ultima release di WordPress parlando dei siti WordPress questo significa tutto no? noi abbiamo di fronte BitNinja abbiamo di fronte tutto per tutelare gli utenti ma poi passano quando hai un 4.5 come WordPress o hai PHP 5.6 beh lì aspetti soltanto che succeda tutto lì true story indubbiamente cioè io lo vedo tutti i giorni per il lavoro che faccio lo vedo tutti i giorni purtroppo ok? il punto è se cioè banalmente se il system integrator l'hard web agency chiamiamola come vogliamo non non rispetta diciamo determinati requisiti ok? secondo me la scelta è molto semplice eh sì giustissimo però noi siamo proprio a volte spesso in una catena schiacciati appunto diceva lui se uno è tipo la persona che sa queste cose però si ritrova l'agenzia davanti con il cliente davanti e soprattutto anche per invece le prestazioni quindi non solo la sicurezza anche le prestazioni è difficilissimo motivare soprattutto in termini di costo perché poi il cliente a volte punta spesso senza sapere le conseguenze sia in performance sia in sicurezza alla all'economicità della scelta quindi bisogna comunicare il più possibile trovare il modo migliore diciamo che io io da come dire operatore del settore cerco di di creare un po' di sensibilità su questi argomenti poi ci spendiamo molto su queste cose soprattutto con i nostri partner e con le persone che lavorano con noi poi è chiaro che poi arriviamo a un certo punto che non ha senso questo accanimento terapeutico lasciami dire cioè ognuno poi artefice del proprio destino perdonami non possiamo esatto però uno deve essere professionale al punto da dire guarda se non fai questo puoi andare incontro a tutta una serie di conseguenze fine poi come si dice a Napoli attacca il ciuccio dove dice il padrone esatto ok quindi alziamo le mani poi in temi per quanto riguarda le performance dipende dal progetto perché anche in altri speech che ho portato in giro in passato 500 millisecondi di tempo di attesa di caricamento su un sito e-commerce vuol dire il 40% di fatturato in meno più o meno quando tu vedi al merchant e dici tu fatturi 2 milioni all'anno se riduci di 500 millisecondi puoi fatturare 2 milioni e mezzo 2 milioni e 6 penso che ti sta a sentire da fare questi discorso grazie grazie Fabrizio grazie a voi 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 grazie a voi